Ora basta. Se non vi volete convincere voi, vi convinceremo noi. Questi non sono i patti, però. Comissà, dovete prima aspettare il ritorno del consigliere e della delegazione. Non c'è niente da fare, purtroppo. Dovete andarvene. E dove andiamo a finire? E questo lo sapevamo. Non siete stati capaci di fare niente neppure voi. E siete proprio voi che ce li impedite. Gli avrete dato il voto a quelli e queste sono le conseguenze. Ma lo volete capire che siete voi che gli date la forza di fare quello che vogliono? Ma che hanno fatto per voi? Ma che ce n'avete voi a abitare in quelle case? Ma non avete che a un buco vi buttano in un altro peggiore e vi tolgono anche la possibilità di lavorare? Allora a chi lo dobbiamo dare il voto? Ai comunisti? E datolo a chi volete, ma non la gente che specula su voi. Non è che vuol fare un comizio? Io non glielo posso permettere, venga con me. Non le permetto di servire in passaporto! Via calma!